in questo video voglio svelarvi le 5 verità che nessuno vi ha mai detto su pedemontana pedemontana è un progetto vecchio hanno iniziato a progettare negli anni 50 quindi siamo nel 2022 ma è folle realizzare nel 2022 un progetto degli anni 50 quante volte abbiamo sentito dire questa sciocchezza beh sì sarebbe folle se nel 2022 pessimo davvero per realizzare un'autostrada progettata negli anni 50 infatti non è assolutamente così è vero che l'idea della pedemontana nasce alla fine degli anni 50 ma questo non deve stupire altre autostrade sono nate in quell'anno e oggi sono ancora in esercizio l'a1 autostrada a milano bologna che poi è arrivata fino a napoli nasce proprio in quegli anni cioè tra la metà la fine degli anni 50 ma per arrivare a napoli ci sono voluti tre decenni quindi non solo l'idea era abbastanza corretta visto che ancora oggi è una delle autostrade che utilizziamo spesso per andare in vacanze per muoverci all'interno dell'italia ma ci sono voluti decenni per concluderla e in tutti questi anni in tutti questi decenni si è continuato a investire sull'autostrada con molti lavori di manutenzione e anche di allargamento autostradale adattandola alle nuove esigenze quindi non c'è nulla di male nel fatto che pedemontana come progetto sia stato ideato e pensato o meglio come esigenza fosse nata già in quegli anni ma il progetto che andiamo a realizzare oggi in lombardia è in realtà il progetto di un'autostrada davvero moderna innanzitutto è la prima autostrada in italia probabilmente anche in europa con il sistema free flow un sistema quindi di pagamento che non prevede l'edificazione di caselli si paga o con il telepass in maniera automatica passando sotto i portali presenti sull'autostrada oppure si paga una volta finito il tragitto nell'autostrada anche comodamente con una semplice app è vero il sistema senza caselli può sembrare scomodo per qualcuno obbliga a qualche incombenza in più però ha il vantaggio indiscusso in dubbio di evitare l'edificazione dei grandi caselli che consumerebbero ulteriore suolo inutilmente e che molto spesso causano file e ingorni pedemontana non si farà mai perché è impossibile realizzarla anche questo ce lo sentiamo ripetere molto spesso innanzitutto ragazzi l'autostrada pedemontana è semplicemente un'autostrada non stiamo tentando l'approccio su marte e nemmeno brevettando il moto perpetuo si realizzano tantissime autostrade nel mondo e anche nella vicina Europa ma soprattutto pedemontana è già stata realizzata è già perché dal 2015 è in esercizio il primo tratto di pedemontana quello che arriva fino all'entate sul seveso certo sono solo 22 chilometri rispetto ai 96 totali ma pedemontana è di fatto già una realtà e quindi non ci deve spaventare il fatto che stiamo per realizzare un'autostrada è vero c'è stato un clima di ostracismo è vero ci sono state molte lungaggini è vero il percorso è stato irto e quindi sono passati molti anni da quando si è iniziato a costruire questa autostrada ma ciò non significa che non si potranno realizzare anche i successivi tratti cioè la B2, la C e poi l'ultimo pezzo della D i sindaci non sono stati coinvolti e ai territori è stato imposto un tracciato che loro non hanno mai potuto modificare e tantomeno scegliere anche questa è una grande qualsità perché il dibattito su pedemontana la scelta del tracciato la scelta progettuale dell'autostrada è proprio partito alla fine degli anni 90 ha coinvolto naturalmente tutti i sindaci dell'epoca ne è nato un intenso dibattito anche proficuo anche approfondito che è durato molti anni e che è stato portato poi all'approvazione in tutte le fasi istituzionali previste ha coinvolto tutti i livelli ai comuni, le province, la regione e anche il governo centrale i governi di tutti i colori hanno sempre approvato tutti i passaggi necessari per proseguire con il progetto di pedemontana quindi quello che vediamo oggi il tracciato che è stato deciso e messo finalmente in appalto con la gara che è stata aggiudicata poche settimane fa è stato proprio scelto e condiviso al territorio con tutti i suoi pregi e tutti i difetti chi vi parla non è contento al 100% di questo progetto e di questo tracciato probabilmente non è quello che io ed altri avremmo preferito ma è quello che nel lungo percorso democratico è stato poi deciso e deliberato pensare oggi dopo questo lungo percorso e cammino durato più di due decenni di ripartire da capo di coinvolgere nuovamente in un nuovo dibattito significherebbe non fare mai l'opera quindi i territori sono quelli che hanno scelto questo tracciato con gli strumenti democratici che sono quelli della maggioranza che dibatte, discute, litiga ma che alla fine decide e fa le cose vede montana devasta l'ambiente e consuma suolo beh questo è un aspetto sicuramente delicato legato alla realizzazione di qualsiasi infrastruttura non solo quelle autostradali qualsiasi edificazione produce una ferita irreversibile al nostro territorio è vero che la Brianza è una delle province più urbanizzate d'Italia quindi dove il territorio è stato consumato in una percentuale davvero importante ma dovremmo prendere forse la questione da un altro punto di vista ma siamo davvero sicuri che sia colpa di vede montana che alla fine in Brianza ci sia un elevato consumo di suolo beh non può essere colpa di vede montana semmai a ben guardare vede montana è la conseguenza di un'idea di sviluppo in Brianza che sicuramente ha portato a un consumo eccessivo di suolo da una parte questo è innegabile ha prodotto anche dei risultati dal punto di vista economico assolutamente positivi se oggi la Brianza è una delle province più ricche d'Italia dall'altra il carissimo prezzo che abbiamo dovuto pagare è quello appunto dell'eccessivo consumo di suolo ma sicuramente anche da una situazione davvero allarmante dal punto di vista della mobilità che oggi non è più sostenibile noi come regione Lombardia abbiamo investito molto nella mobilità abbiamo già programmato l'arrivo di due linee della metropolitana Monza la M1 e la M5 abbiamo investito tantissimo nella rete ferroviaria abbiamo naturalmente deciso di proseguire anche con la realizzazione dell'autostrada che è necessaria per evitare di rimanere soffocati ogni giorno nel traffico e allora Pedemontana se da una parte sicuramente ferisce il territorio nel bilancio finale è un'opera che porta più benefici dei costi che ci sono anche all'ambiente e sono innegabili anche perché Pedemontana è stata realizzata con un'idea progettuale che ha come obiettivo quella di avere il minor impatto ambientale si tratta di un'autostrada che per il 70% del suo tracciato è prevista in trincea o in galleria infatti alla metà di questo 70% sarà realizzato in trincea l'altra in galleria artificiale o naturale questo determina naturalmente un innalzamento dei costi di costruzione e di realizzazione dell'opera ma così è stato deciso proprio per diminuire l'impatto ambientale così come sono stati decisi interventi di mitigazione importanti vorrei leggervi dei numeri che probabilmente nessuno vi ha mai letto e su cui pochissimi hanno posto la giusta enfasi e attenzione per la sola tratta B2 infatti sono previste come mitigazione a verde 353.274 metri quadri si tratta di circa 35 ettari che sarebbero l'equivalente di 49 campi da calcio di questi 4 ettari sono di nuovi boschi verranno poi piantate per la sola tratta B2 9.914 piante e quasi 60.000 arbusti nella tratta C le superfici totali poste a mitigazione a verde saranno di 1.022.237 metri quadri ovvero 102 ettari l'equivalente di 143 campi da calcio di questi 12 ettari saranno di nuovi boschi e nella tratta C verranno piantate 27.723 piante e 148.267 arbusti certo questo non significa che verranno azzerati quelli che sono i danni e le conseguenze dal punto di vista ambientale però quando si realizza un'opera bisogna sempre chiedersi quanto sia necessaria e oggi anche per l'ambiente anche per la qualità della vita e della nostra aria che respiriamo in Brianza abbiamo un assoluto bisogno di dare un'alternativa rispetto alla mobilità sia dei cittadini sia delle numerose imprese del sistema produttivo che da anni ci chiedono ci implorano di risolvere la situazione del traffico anche per rimanere competitivi e per continuare a dare lavoro, ricchezza e futuro ai cittadini della Brianza e della Lombardia si comunque la pedemontana è un'opera inutile perché non la usa nessuno è sempre deserta e i bilanci chiudono in rosso ma anche questa è una grande falsità non si capisce come sia nata questa leggenda metropolitana basterebbe d'altro canto andare a vedere i dati che sono ufficiali e a disposizione di tutti per quanto riguarda il volume di traffico i dati a ISCAT ci dicono che su 61 tratti autostradali presi in esame pedemontana già oggi con i soli 22 km in esercizio sui 96 totali che si prevederà di aprire con il completamento del progetto su 61 tratti autostradali pedemontana si attesta al 41esimo posto per darvi però un termine di paragone è allo stesso traffico dell'autostrada Parma la Spezia la famosa autostrada della Cisa nessuno di noi si sognerebbe mai di sostenere che l'autostrada della Cisa sia un'autostrada inutile deserta e frequentata da nessuno eppure su pedemontana si è detto anche questo veniamo poi ai numeri di bilancio l'ultimo esercizio pre-covid quello del 2019 è stato chiuso con oltre 3 milioni di utili da parte della società PL che è il concessionario che ha in esercizio la tratta autostradale questo utile ha rappresentato un più 330% rispetto all'anno precedente e nella nota di bilancio si dice chiaramente che il 2020 sarebbe andato anche meglio se poi non fosse arrivato il covid quindi l'autostrada pedemontana non è affatto deserta e già oggi con la tratta autostradale di soli 22 km in esercizio produce degli utili ecco l'ennesima balla ok ci hai convinto pedemontana non è un progetto vecchio pedemontana non è deserta pedemontana ha ascoltato i territori ci sono le mitigazioni ambientali i bilanci chiudono in attivo sì però alla fine i pedaggi sono davvero alti ecco questo è sicuramente un tasto dolente rispetto al progetto di pedemontana i pedaggi sono oggettivamente alti e più alti naturalmente della media italiana autostradale anzi sono tra i più alti previsti in Italia c'è però una motivazione pedemontana come sapete è finanziata solo per una piccola parte con fondi pubblici ed è realizzata per la quasi totalità con un investimento privato significa che chi realizza pedemontana dovrà poi restituire il prestito con i relativi interessi e nel frattempo naturalmente finanziare i costi gestioni e le periodiche manutenzioni come fanno tutti i concessionari autostradali questo ha determinato insieme al fatto che il progetto è abbastanza costoso nella sua realizzazione proprio perché abbiamo preteso che fosse in gran parte in trincea o in galleria artificiale naturale e quindi essendo un progetto costoso essendo da ripagare rispetto a chi ha investito soldi le tariffe che sono state approvate dal Cipe sono naturalmente molto alte su questo la politica si è già mossa Regione ha chiesto una scontistica rispetto agli utilizzatori abituali dell'autostrada e oggi vige uno sconto che può arrivare fino al 20% rispetto a chi usa in maniera frequente l'autostrada non è sufficiente e cercheremo di trovare le soluzioni anche in futuro rispetto a questa problematica soprattutto per la tratta B2 quella che interesserà il tratto della Milano Meda che naturalmente oggi è un'arteria di collegamento che è assolutamente gratuito ciò però non toglie la necessità l'utilità di questa infrastruttura che ogni giorno ci chiedono non solo i cittadini ma anche e soprattutto il sistema produttivo che altrimenti rischia di entrare in crisi se non si troverà ancora per i prossimi decenni una soluzione al problema della mobilità nella nostra Brianza con un collegamento est-ovest del nostro territorio che è appunto quello offerto e che offrirà l'autostrada pedemontana grazie a tutti Grazie a tutti.